Il Saturnio è l'unico verso originale latino, perché tutti gli altri sono ripresi dai versi greci. Il nome deriva da quello del dio Saturno, da cui si pensava derivasse il verso. Siccome il culto di Saturno è molto antico, ciò fa pensare che anche il verso sia molto antico. Non sappiamo però che configurazione avesse il Saturnio nella fase più antica. Infatti gli esempi di Saturnio che possediamo risalgono per lo più al III secolo a.C., epoca in cui l'uso di questo verso era ormai influenzato dai modelli poetici greci. Dai Saturni che ci rimangono possiamo notare che il verso è formato da due parti ben distinte, dette kola, separate da una pausa detta di eresi. La prima parte comprende generalmente sette sillabe, ma questo numero è variabile, ed è più lunga della seconda. In seguito il Saturnio fu abbandonato in favore dei versi basati sulla metrica greca, come l'esametro. L'unico tipo di Carmina di cui abbiamo conoscenza diretta, grazie ad alcuni testi che si sono conservati, sono i Carmina religiosi, e cioè preghiere pronunciate in occasione di feste e ricorrenze religiose. Questi Carmina dovevano ottenere l'intervento del Dio in vista di un bisogno pratico, invocandolo secondo i modi e formule prestabilite. Conosciamo tre Carmina di questo tipo. Il primo è il Carmen Saliare, che è una preghiera che veniva recitata da dodici sacerdoti detti sali, da salio che significa danzo, perché appunto veniva recitata durante una danza in onore di Marte, che si teneva ogni anno a marzo. Di questo Carmen restano pochi frammenti di difficile comprensione. Il secondo Carmen è il Carmen Arvale, che è una preghiera che veniva recitata da una confraternita religiosa, i fratelli arvali, da arva, cioè campi coltivati, durante dei riti di purificazione delle campagne effettuati nell'imminenza del raccolto. Di questo Carmen abbiamo una trascrizione in latino arcaico incisa su una tavola di marmo e risale alla cerimonia del 28 maggio del 218 d.C. Già a quell'epoca il latino arcaico doveva risultare di difficile comprensione. L'altro Carmen è il Carmen Lustrale, recitato dal pater familias, cioè il capo famiglia, perché alcuni riti della religione romana venivano svolti proprio all'interno delle famiglie. Il Carmen Lustrale era recitato in occasione dell'alustrazio, che significa purificazione sacrificale, ed era una processione con la quale si chiedeva agli dei un raccolto abbondante. I Carmina Convivalia erano composizioni cantate nel corso dei banchetti, nelle quali si ricordavano imprese eroiche compiute dai membri delle famiglie nobili romane. È addirittura possibile che Carmina di questo tipo abbiano tramandato i miti della fondazione di Roma e delle imprese eroiche dell'età regge e della prima età repubblicana. I Carmina Triunfalia erano composizioni cantate dai soldati durante i trionfi, e cioè le parate trionfali del generale vittorioso che rientrava a Roma dalle campagne militari. Avevano un carattere scherzoso e burlesco, perché approfittando del clima gioioso e permissivo della festa, il generale non veniva solo elogiato, ma anche preso in giro, con battute scherzose e licenziose. Abbiamo un solo esempio di questo tipo ed è relativo ai trionfi di Giulio Cesare, dunque è abbastanza tardo perché siamo nel I secolo a.C. Si può notare un tono buffonesco nel Carmen relativo al trionfo di Giulio Cesare sui Galli, svoltosi nel 46 a.C., dove i soldati scherzarono sulla sua eccessiva disinvoltura in materia di sesso e denaro, mettendo anche in risalto un suo difetto fisico, che era la calvizie, di cui sappiamo che Cesare si preoccupava molto, anche se non tendeva a nasconderla nei suoi ritratti ufficiali. Le laudazioni funebres erano gli elogi funebri pronunciati appunto durante i funerali, e come tipo si avvicinano più alla prosa che alla poesia. Nella laudazio funebris, che veniva pronunciata da un parente o un figlio, si ricordavano le imprese, le cariche e le virtù del defunto. Da un certo momento in poi, probabilmente già dalla seconda metà del IV secolo a.C., si cominciò a trascrivere il testo delle laudazioni, che veniva così conservato negli archivi di famiglia. Queste laudazioni poi servirono come fonti per la storiografia successiva, ma non si trattava di fonti molto attendibili, perché la laudazio funebris aveva una funzione celebrativa e per questo poteva facilmente accadere che la verità storica venisse alterata o trascurata per dare maggior lustro al defunte e alla sua agenz. Analizziamo ora le forme preletterarie e teatrali. I fecennini sono litigi scherzosi, in versi improvvisati, che si scambiavano i contadini durante le feste campestri propiziatorie che si svolgevano in occasione delle ricorrenze del lavoro agricolo, e quindi la mietitura, la vendemmia, ecc. Per queste feste i contadini si mascheravano con rudimentali maschere, e scambiandosi queste batte burlesche si lasciavano andare anche a insulti volgari, parole oscene, allusioni sessuali. Dunque erano feste dal carattere gioioso, giocoso e trasgressivo. Quindi i fecennini sono la più antica forma di recitazione di cui abbiamo notizia. Il nome, secondo gli antichi, derivava dalla città etrusca di Fecennium, nel Lazio settentrionale, nella quale questa forma preletteraria teatrale avrebbe avuto origine. Oppure questo nome poteva derivare da Fascinum, che significa membro virile oppure malocchio, e questa seconda etimologia metterebbe risalto il carattere trasgressivo di questi dialoghi. Quindi l'etimologia rimane incerta. Un altro contesto che favoriva lo scambio di queste battute volgari era il matrimonio, quindi le feste noziali. La principale festività religiosa erano i ludi romani, cioè i giochi romani, in onore di Giove Ottimo Massimo, celebrato a settembre. Sappiamo dallo storico Livio che nel 365 a.C., a seguito di una grave pestilenza che aveva colpito il Lazio, nell'ambito di questa festività vennero introdotti dei ludi scenici, cioè spettacoli teatrali. Lo scopo era quello di intrattenere e placare gli dèi, ritenuti responsabili dell'epidemia, e dunque ottenerne la fine. E poi queste rappresentazioni continuarono nel tempo e si trasformarono. Dei ludi scenici introdotti in questa occasione, Livio ci dice che inizialmente essi consistevano nell'esebizione di ballerini etruschi, che danzavano al suono del flauto. In seguito fu introdotta una primitiva forma di rappresentazione, accompagnata sempre dal flauto, con recitazione alternata al canto, chiamata satura. Il nome satura deriva dall'aggettivo satur, che vuol dire pieno, e avrebbe una relazione con la langs satura, cioè il piatto pieno, il vassoio pieno di primizie varie offerte agli dèi. Su questa base si potrebbe ipotizzare che questo spettacolo fosse una sorta di varietà, con scenette comiche. Ma a parte Livio non c'è nessun altro che ce ne parli. La fabula tellana, cioè commedia tellana, era un rudimentale teatro comico, di origine osca. Gli oschi erano una popolazione della Campania. E il nome fa riferimento ad Atella, una città situata tra Napoli e Capua. La fabula tellana prevedeva maschere fisse, di personaggi prestabiliti, quali Dossennus, il gobbo astuto e perfido, Maccus, il ghiottore balordo, Bucco, il millantatore, e Pappus, il vecchio rimbecillito, dal greco Pappos che significa nonno. Gli attori disponevano di una sorta di canovaccio, nel quale la trama era stabilita, ma il dialogo era in parte improvvisato, quindi la tecnica era analoga a quella della commedia dell'arte italiana. Nel I secolo d.C. la tellana si basò sui testi scritti, divenendo così un vero e proprio genere letterario. Tutti questi tipi di spettacolo quindi riflettono un diffuso gusto per il comico e la beffa, che sarà il presupposto per la commedia latina e soprattutto per la comicità di Plauto, di cui parleremo.